Siamo qui oggi con il consigliere Salerno che ha da poco ricevuto la delega al comunitore del Greco per rappresentarlo nella cherelle per il crack dei Ulemar. Il mio ruolo è quello di essere un riferimento istituzionale per tutto quanto afferente la tematica. Probabilmente è anche una delega tardiva, visto che arriva dopo nove anni dal crack l'impegno da parte delle istituzioni di dare mandato di rappresentanza tanto nei discorsi sovraistituzionali quanto nelle relazioni con i comitati e le associazioni di obbligazionisti a cui va il mio più grande applauso perché non hanno mai smesso in primis loro di credere in un ristoro economico e di dignità. Cosa può fare l'amministrazione in una condizione del genere? Come può aiutare effettivamente i creditori truffati? Si può approvare in Parlamento una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Luigi Gallo che darebbe l'opportunità ai truffati della De Ulemar di essere indenizzati al pari dei truffati delle banche. È chiaro che quindi ora è necessario alzare la tensione politica. A giorni sottoporremo al sindaco la sottoscrizione di una lettera destinata al ministro dell'economia. Faremo lo stesso anche con il presidente della commissione banche. Cercheremo un dialogo con i sindaci anche di Ercolano, Monte di Proce, Dottore Annunziata che sono gli altri tre comuni dove si sono registrati un maggior numero di truffati per far partire anche una petizione popolare così da cercare nel nostro piccolo di aumentare quella pressione e trovare quante più adesioni al momento dell'approvazione della legge. Ad oggi, dopo nove anni, qual è la situazione per Torre del Greco e per l'economia di Torre del Greco per quanto riguarda il crack? La truffa di Ulemar è potuta avvenire, a mio avviso, perché di Ulemar, così come la Banca di Credito Popolare o la lavorazione del Corallo è stato a un certo punto della nostra vita torrese qualcosa che ci apparteneva, esisteva. Noi avevamo coscienza di quello che potesse essere la di Ulemar perché avevamo l'esperienza del vicino, dello zio, eravamo stati al matrimonio che era stato pagato con i soldi investiti nella di Ulemar quindi era un qualcosa, dire di Ulemar significava direttore del Greco e quindi è stato, oltre alla truffa economica, un colpo al cuore della città. Spostandoci ora sulla politica cittadina, sono passati mesi dalla nuova giunta, c'è ancora quella situazione d'unpass o si è andate avanti? Siamo al capezzale di un morto, a mio avviso è questa la situazione, non c'è sprint in questo nuovo corso, si stenta a vedere effettivamente degli atti, un'inversione di marcia, probabilmente, pur avendo fatto una metafora forte, è effettivamente così la situazione. Quello che tengo a sottolineare è che siamo prossimi all'approvazione del recovery plan che prevederà da quel momento in poi una competizione tra gli enti locali a cercare di ottenere risorse per dare effettivamente un nuovo corso alla città. A mio avviso con questa amministrazione arriviamo non solo in ritardo, ma scariche senza le competenze necessarie per poter sfruttare questa occasione. Quindi l'appello che stiamo lanciando da mesi, quello di portare pagina, di dare elezioni pulite e di nuovo voce ai cittadini, sarebbe un'occasione da non perdere per tutti questi aspetti. Quindi tornare ai 6 giorni ad ottobre sarebbe uno scenario possibile? Io me l'auguro. Possibile dipende in primis dal sindaco e dalla sua maggioranza. Se effettivamente è attornato da una maggioranza stabile, non è questa la sensazione che abbiamo. Più che possibile io me lo auguro.